ciao a tutti raga oggi andremo a fare l'unboxing di questo pacchetto come possiamo vedere spedito da amazon andiamo a fare l'unboxing per vedere il contenuto ecco qui che possiamo vedere scatolina in latta con fidget spinner in sovraimpressione vado in china andiamo ad aprire la scatolina ecco qui lo spinner veramente bello come si può vedere anche di estetica metallo la presa incavata per un maggiore grip prova di spin veramente molto silenzioso è bellissimo l'effetto di colori che da come possiamo vedere ha solamente un cuscinetto centrale e questi tre fanno di contrappesi adesso lo poggio su questo piano e vediamo se gira ok gira possiamo andare a fare la prova di spin quanto dura ecco qui andiamo un altro cellulare 3 2 1 via eccoci qui siamo ad un minuto continuo ancora a girare nonostante gli abbia dato una spinta veramente leggera eccoci qui 2 minuti veramente una durata eccellente di questo spin ultima fattura e qualità impeccabile di che dire assurdo ha superato anche i due minuti e mezzo con una maggiore spinta arrivava sicuramente ai tre minuti se non ci arriva adesso ma credo che ci arriva ecco qui superati anche tre minuti di spin come possiamo vedere continua ancora a girare si è fermato ecco qui ecco qui